Sogni d'oro. Quello era l'ultimo. Ora vediamo cosa sta combinando Felicia. Beh, questa è nuova. Il regnetto vuole giocare, eh? MJ! Ha rubato lo scettro! Ed è magico! Davvero! Cos'è successo? Ehi, gatta! Possiamo parlare? Potresti rallentare! Vanteneo ti teletrasporta in mezzo al Pacifico! Come ci hai intercettati? Usate ancora il vecchio canale? Non hai di meglio da fare, ragazzino. Felicia, devi fermarti! È una follia persino per te! Chi parla? Sei tu, rossa? Come vanno le cose con il vecchio rollo? La smetti! Sto cercando di aiutarti! Non mi serve l'aiuto di nessun altro. Sai cosa rischi con quello scettro? E vuole usarlo per rubare altre opere d'arte! Maledocata! Vi sento, sapete? No! Wow! La linea L! Felicia, potevi fare una strage! Attenta! Di nuovo i cacciatori! Ha non debole per me! Può finire stanotte! Possiamo fermare chi vuole uccidere! Rubati il tuo, ti artefatto magico! Ah, che credo! Non ho neanche la sciarpa! Lo scettro può portarci da grave! Questo non riguarda affatto, ragazzino. Perché non mi aiuti a fermarlo? Sei Spider-Man. Hai già salvato la città e lo farei ancora. Spider-Man aveva ragione su di te. Pensi solo a te stessa. Senti, bello. Non che siano affari tuoi. Ma la mia ragazza è a Parigi. E l'ho messa nei guai con delle brutte persone. Hai mai fatto qualcosa per amore? Ha bisogno di me. Adesso! Se soltanto riuscissi a fare più di tre metri con questo coso. MJ ha detto di non fidarmi. È una tipa sveglia. Ma devi fare le tue scelte da solo. La cazza! Ci serve viva! È mia! Pietro! Pazzesco! Scappa! Usa un portale! Le istruzioni di questo manufatto non erano chiare. Però mi li ho riavvista d'occhio. Non abbastanza. Troveremo una soluzione. Insieme! Però... Hai coraggio, ragazzino. Sono Spider-Man, non un ragazzino. Ok, Spider-Man. Vediamo che sembra. Sorpresa! Non se l'aspettavano! Eccone altri! Sul tetto! Ehi! Usa questo portale! Prendiamo lo scettro! Versaglio a tiro! Hai bisogno. Vieni giù e combatti! A terra! A terra! Stegniamolo a terra! Via! Anche una torretta! Un altro portale per te! Accetto tutto l'aiuto possibile! Qualche magia per i proiettili? Hai le ragni a te! E usali contro la torretta! Ehi! Non saranno qui per lo spettacolo dei leoni marini? Oh! Voglio vederlo! Sai che i leoni marini nuotano a 40 km orari? Concentrati sui cacciatori! Craven ti vuole da morire! Già occupata! Cogliete di mezzo il regno! Ci vogliono ridurre all'ostremo! Se mi vogliono, dovranno uccidermi! Vediamo di non arrivare a tanto, ok? Ok? Ehi, qui! Cuaca! Ti piacciono i cani? Riferisco i gatti E questi non sono cani Ma mordono come cani Peggio Occhio ai portali Cambio posizione Guarda il cara Non si stanno trattenendo Sto finendo le nuove vite No, andrai a Parigi La tua ragazza ha bisogno di te Sei davvero uno spy No, che uno sorrezeln Ehi e felice Grazie a tutti